Che cosa sta succedendo? Sta cambiando il mondo! Che cosa sta succedendo? Ci sono troppe Catastrofi! Che cosa sta succedendo? Col fuoco nello suono! Che cosa sta succedendo? Non si capisce più niente! Non c'è più niente! Ormai da fare! La terra è malata! Bisogna intervenire! Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? La terra è malata! Bisogna intervenire! Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? La terra è malata! Bisogna intervenire! Ci sono troppe catastrofi! E l'uomo è inerme! Ci sono troppe calamità! La terra è mai malata Che cosa sta succedendo? La terra è malata Ci sono troppe catastrofi La terra è malata Dobbiamo intervenire al più presto Dobbiamo intervenire al più presto